Un saluto a tutti da Snogles e ben ritrovati in un nuovo episodio su The Legend of Zelda Link's Awakening. Abbiamo finito il Tempio della Maschera, l'ultima volta, e dobbiamo andare sulle montagne, come ci è stato detto. Quindi, il modo più rapido è usare un attimo un teletrasporto. Andiamo di teletrasporto. E andiamo qui. Qui. E vediamo un pochettino, anche se dovremmo fare una capatina alla casa delle conchiglie, qui. Però vabbè, per il momento andiamo di qua. Andiamo di qua, superiamo questi tre tizi. Un episodio che non sarà a lungo, come gli ultimi due, che mi si è fatto un po' tardi stamattina. Quindi, non durerà eccessivamente. E sarà per lo più, diciamo, di spostamento. Di apertura di settori. Ecco il nostro gufo. Uh, 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 questa volta, uh, uh, c'è. Da qui in poi il tuo cammino sarà ancora più periglioso. Ma la tua meta è prossima. Devi solo recarti a est e a ovest di queste montagne. Per prima cosa dirigiti alla torre est. Ragazzo, il destino di Colint è nelle tue mani. Si approprì in quel risveglio del pesce vento. Uh, 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 ok. E quindi, let's go. Andiamo di qua. E... A posto. Polverizzati senza troppa difficoltà. Facciamo così. Ormai la mia spada emana un'aura... Poderosa. Ti ammazzo a distanza, proprio. Ok. E... Ora abbiamo il rampino. Il rampino. Possiamo... Prendere questo tesoro. Che prima non ci era dato prendere. Perfetto. Ok. Vorrei anche una via di uscita. E qui. Buttiamo giù questo. Ed eccoci qua. Facciamo così un secondo. Perché... Non so. No. Ci si va dall'altra parte. Lì non c'è niente da rompere. Proseguiamo. Proseguiamo. Ed eccoci qua. Allora. 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 Nada da nada. Qui. Vediamo. Qui è dove si va sopra. E non penso ci sia. gran che... Gran che... Da dove abbiamo portato l'ananas. al tizio. Al tizio. Al tizio. Al tizio. Al tizio. E... Null'altro credo. Null'altro. Null'altro. Perché si può riscendere. E finisce così. Bene. Allora. Andiamo di qua. Oppure possiamo direttamente buttarci di sotto. Mi pare. Non è inutile riscendere da lì. Scorciatoia. E andiamo di qua. Dove prima c'era una cascata. Che ci bloccava la via. Adesso. Intanto qui c'è una conchiglia. Come si può ben vedere. Eccola qui. Presa. E... Ci dirigiamo a est. Ma prima. Ma prima. Saliamo per di qua. Saliamo per di qua. E... Lanciamo. Intanto qui. Che cosa c'era? Non mi ricordo. Ah. Il tizio delle galline. Custode del pollaio. Certo che i polli di oggi non hanno più la grinta che avevano i miei tempi. Una volta. Quelli che levavo io. Facevano flap flap. E riuscivano a sborazzare in alto nel cielo. E invece adesso li vedi? Cocco. Cocco. Ok. Non ci dice praticamente nulla. Nulla. Più. Di. Dover lanciare una bomba. Dentro questo buco. Quindi. La prendiamo. Ci mettiamo qui. E la lancia. Non ci posso credere. Per un millimetro. Facciamo qua. A posto. Eccola. La nostra conchiglia. Conchiglia nascosta. E... Di qui che cosa abbiamo? Probabilmente lì dobbiamo andare. Però per il momento. Vediamo anche un attimo. Qui. Da questa parte. Che cosa. Possiamo fare. Proprio un bel nulla. Credo. Ah. E invece una scala segreta. Ah. Il frammento di cuore. Quello che da lì si vedeva. E che non si vedeva prendere. Qui una bomba. Ci vuole. Solleva. Ok. Lì ci vuole una bomba. E se scendiamo là. Se scendiamo lì. Poi non possiamo risalire. Vediamo un po'. Usciamo. E qui. Che abbiamo il frammento di cuore. Perfetto. Mentre. Scendere in quell'altro buco. Che cosa comporterà? Vogliamo provare? E proviamoci. E proviamoci. Con porta che. Cerco il rampino. E. Non. Scendiamo un attimino. E qui. Dove stiamo andando? Usciamo da di qua. Ma non è il posto in cui noi dobbiamo andare al momento. Non è assolutamente il posto dove noi dobbiamo andare. Però. Qui c'è una conchiglia. Conchiglia nascosta. Benissimo. Poi qua. C'è uno scrigno. Ce l'apriamo. Rupie. Che però ci servono. Perché. Dobbiamo. Prendere anche un altro paio di conchiglie. E. E di qua. Al momento. Non ci serve. Oppure sì. Vediamo subito. Esploriamo ragazzi. Come ho detto. Questo è un episodio. Anche di esplorazione. Un attimino. Delle montagne. Perché non ci siamo saliti. Mentre quando non sono giocato da solo. Le ho. Le ho visitate. Un po' stata facendo. Quindi. Qui. Ok. Qui non si esce. Perché serve lo scudo. Che riflette. Che prenderemo di là. Quindi. Non ci si può fare. Proprio. Niente. Un frammento di cuore. Invece questo è molto molto utile. E quindi. Praticamente. Riscendiamo. Non avendo risolto. Una beniamata mazza. Dobbiamo tornare. Dobbiamo tornare. Mettiamo il boomerang. 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 Come vedete. Col boomerang. Nulla è impossibile. E possiamo ovviamente dilaniare. Come mi riporta la rupia. Aia. Ok. Andiamo per di qua. E per caso qui. C'è da scavare. Poi vicino. Niente conchiglia. Niente conchiglia. E a questo punto. Vediamo un attimo con il teletrasporto. Dove possiamo andare. Se possiamo andare vicino. Alla casa delle conchiglie. Un po' lontano. Un po' lontano. Non troppo. Perché. Vediamo un attimino. Da sotto. Ci si può andare. Molto tranquillamente. Allora passiamoci un attimo. Perché a questo punto. Dovremmo avere abbastanza conchiglie. Da. Farci dare. Un oggetto. Che. Risuona. Quando siamo. Vicini. Alle conchiglie. E questo oggetto. È. Molto molto utile. Quindi. Vediamo un attimino. Aia. Non solo ho sbattuto il muro. Ma ci ho preso anche un coppino. Nella gelatina. Molto bene. Andiamo per di qua. De. App. App. Mangiamo la mela. Aia. Aia. Via. Ok. Dovremmo avere qualche. Ho preso qualche conchiglia in più. Quindi saliamo. Sulla nostra bilancia. Delle conchiglie. E vediamo che arriviamo. Alla seconda. Tacca. Non riusciamo a prendere la terza. E qui. Dovremmo. Avere. Vediamo. Esatto. Ok. Ci dà il trova conchiglie. Che suona quando ho una conchiglia nei paraggi. Perfetto. È molto utile. E perché non ricordo la posizione di tutte le conchiglie. Qui ce n'è una per esempio. Ok. Adesso possiamo tornare sulle montagne. Montagne che sono a portata di teletrasporto. perché è inutile scarpinarcela a piedi. Andiamo qui. Dobbiamo andare a est. A est. Per di qua. A est delle montagne. Non a est. Non a est. Non a ma qua. Ho una conchiglia. Qui. Ha suonato. Qua. Esatto. Ok. Non l'avevo ancora presa. Incredibile. Spostiamo ste rocce. E. Riandiamo up. Andiamo up. Questa volta la velocità della luce. Ho preso già altre due conchiglie. Siamo a 27. La metà sono 50. E. Ovviamente ce ne siamo dimenticati qualcuna. Lungo il tragitto. Avremo tutto il tempo di. Ripercorrere. La strada. Andiamo di qua. Facciamo. Distruggiamo le tendine. E. Ci apprestiamo. Ci apprestiamo. A. Percorrere. Quel percorso. Che prima non abbiamo fatto. E. Che ci porta. Intanto. Andiamo anche qui. Conchiglia. Conchiglia. La conchiglia forse è sopra. Intanto. Qua. Bombetta. Salta il pesce preciso. No. Ok. Qui qua. Sopra. Vediamo questo segreto dove ci porta. Secondo me va a prendere una conchiglietta. Conchiglietta. Ah. Qui. Ok. Falta fuori. Qui non c'è nulla. Mentre invece. E qui che sta. La nostra conchiglia. Perfetto. Presa un'altra conchiglia. Andiamo di qua. E di qua. Infatti. Non c'è nulla. Sono tutti. Mostri. Non. Non da un bel niente. Come potete. Vi faccio vedere. Che. Non da nulla. Nulla. Di nulla. Mostra. E qui. Mostra. Ah no. Ok. Oh. Cento rupee. Meno male che l'ho rifatto. Perché non me lo ricordavo proprio. Mi ricordavo. Erano tutti i mostri. Non so se c'è l'uscita qui. Ci si può. Buttare. No. Non ci si può buttare. Tristissimo. Ok. Torniamo giù. Dall'unica via. Possibile. E. Qui invece si. Può lanciare. Scendiamo. Andiamo di qua. Questo sicuramente salta. Ok. E via. Un attimino. Mmm. Ok. 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 Quindi. Se qua è così. Qui in questo buco. Ci fa cadere lì sotto. Ci siamo già andati. Quello che dobbiamo invece fare. È salire. Di là. Intanto. Vediamo. La torre dell'acqua è poco più avanti. Ma attenzione. La sua chiave non lo è. Infatti. Qui. C'era un percorso. Un percorso. Che non abbiamo preso. Qui sopra mi pare. Sì. Che serve. Una specie di piccione. Ehm. No. Rampino. No. Così. Non serve a nulla il rampino. Però qui ci segnalano una conchiglia. Per smettere sto coso. Eccola qui. Una conchiglia nascosta. E siamo a quota 29. 29. Ehm. Invece. Qui. Dov'era. Ok. Non mi devo assolutamente buttare di sotto. Niente. Era solo un'altra via. Per arrivare. Allora. Ehm. La chiave. La chiave. Che. Dovrebbe. Intanto arriviamoci. Arriviamoci perché. Direi che per questo episodio. Ci punteremo ad arrivare lì. E vedere un po' la situazione. Non oltre. Entreremo. In quest'altro posto. Intanto abbiamo esplorato un attimino le montagne. Siamo andati a sinistra. Fin quando potevamo. Ehm. Andiamo di qua. Abbiamo visitato un po' quello che potevamo. Ok. Intanto andiamo di qua. Perfetto. Perché qui. Ora. C'è questa situazione. Qua sotto non c'è un benemato nulla. Mentre si può arrivare ancora più in alto. E ricordo che bisogna andare a prendere. Esatto. Esatto. Una specie di uccello. Che ci permette. Di. Però. Si può anche rampinare qui la situazione. Vediamo che col boomerang lo. Ok. Perfetto. Ma che tu sia. Maledetto. Sposati di qua. Maledizione. Dai. Su. Riprenditi. Dai. Non è successo niente. Qui sto. Sto qua. È incredibile. Ok. Scendiamo. E da qui non si torna indietro. Abbiamo. Questo da rompere. Ci sta una fatina. Non ci sta. Vediamo un attimo. Esatto. Una fatina. Che al momento. Porta ben poco. Mentre di qua. C'è il passaggio. Che ci interessa. Appunto. E. C'è forma di teschio. E dai. Ma. Siamo tutti maledetti. C'è. Non si alza. Maledizione. Basta. Me ne vado. Dove averci preso 96 colpi. Qui. C'è appunto. Questo. Ehi. Che ci fa qui una serratura. Sopra c'è scritto serratura aquila. Allora. Serratura aquila. Ma noi. Ovviamente. Non l'abbiamo. Che ci sta a fare questo buco proprio qua sotto. Per poter scendere. E infatti noi. Ci buttiamo. Ci buttiamo. Riusciamo. Da qui. Sguazziamo fuori. E. Eh. Praticamente. Sa che qua. Si può. Prendere. No. Un attimo. Lì c'è il pesce. C'è la canzone. Perché mi ricordo. Che qua da questa parte. C'era. Una. Conchiglia. Qui sotto. No. Ok. Allora. Dove riusciamo. 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 Perfettamente lì. Ok. Andiamo qui. Andiamo da quest'altra parte. A parlare con Ulrir. Perché probabilmente ci dirà qualcosa di molto molto utile. Andiamo un attimo. Entriamo. Vediamo un attimino cosa da dirci. Rindin pronto sono Ulrir. Hai mai sentito parlare della leggenda del gallo volante al villaggio Mabbe? Tanto tempo fa i nostri antenati lo usavano per solcare i cieli tenendolo sopra la testa. Si dice che si è sepolto sotto la banderuola del villaggio Mabbe. Sono stati di aiuto? Bene. Allora sentiamo. Click click. Torniamo al villaggio Mabbe. Torniamo al villaggio Mabbe. Teleport. La banderuola. Adesso andremo subito a vedere. Eccoci qua. Perché è grazie a lui che possiamo svoltare la situazione. Intanto come vedete le rupie... Oh ma qui c'è... E' qua? Sì. Questo. Perfetto. Conchiglia nascosta. Come vedete è molto molto importante avere questo strumento. Perché... Quando arriva... Se arriva alle ultime conchiglie non è facile diciamo. Aia. Se ogni tanto attaccano ogni tanto no. Fanno un po' quello che gli pare. E' un per di qua. Quando ero al villaggio Mabbe. Eccoci qua. Al villaggio Mabbe. Abbiamo, se vi ricordate, il braccialetto più forte. E' ciò che prima non si spostava. Adesso si sposta. Ora si sposta. Scendiamo giù. E come vedete qui c'è un teschietto. C'è un teschietto. E... Mi pare... Che bisogna suonare... La canzone che riporta in vita qualunque cosa ci diceva. Andiamo a suonare questa canzone qui. E infatti... Infatti arriva qualcosa. Arriva qualcosa svolazzante. Attenzione. Abbiamo... Abbiamo... Il gallo è ritornato in vita. Sembra anche molto amichevole. Deve esserne rimasto contentissimo. Perfetto. Perfetto ragazzi. E' proprio grazie al gallo. Che potremo svoltare la situazione. Facendo così si vola. E questo volo ci permette di passare in punti in cui prima non ci era dato passare. Quindi... Grazie al nostro carissimo Ulrira. Che andremo a ringraziare direttamente al telefono. Qui. E si lancia. E lui ci seguirà sempre. Ovunque andremo. Drin, Drin, pronto. Sono Ulrira. Sei andando benissimo. Secondo me manca poco. Comunque sei già stato al pollaio sulla cima della montagna. Lì c'è una grotta. E dentro la grotta c'è qualcosa di importante che ti serve. Quindi Ulrira ci ha dato questo importante consiglio su... Quella casa dei polli che abbiamo visto prima. E direi che per oggi è tutto. Anche perché non mi posso prolungare oltre. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. Un commento fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.